Attenzione, siamo arrivati a venerdì e proprio oggi ci sono 9,5 miliardi di dollari di scadenze di option proprio su Bitcoin. Ciao a tutti ragazzi, vi do il benvenuto in questo nuovissimo video. Innanzitutto vi auguro un buon venerdì mattina a tutti, un buon inizio settimana a tutti. E come di consueto ragazzi oggi è l'Alcoin Friday, ovvero il venerdì noi andiamo a trattare nella prima parte del video le ultime news relativa al mercato delle criptolute che ne abbiamo da vedere molto molto interessanti come per esempio le scadenze delle option, OKEX che fa una dichiarazione molto molto forte ma soprattutto ragazzi nella seconda parte di questo video andremo ad approfondire e andremo soprattutto ad analizzare a livello tecnico alcune Alcoin che anche voi mi avete consigliato appunto di andare ad analizzare a livello grafico. Ovviamente stiamo parlando di Alcoin non esotiche almeno che rientrano in top 100 per non andare nel trash. Comunque sì ragazzi prima di andare a vedere tutto nel dettaglio ti chiedo come sempre di supportare il canale lasciando semplicemente un like e iscrivendoci al canale stesso. Hai fatto? Perfetto non perdiamo il tuo tempo passiamo con la visuale a PC. Allora ragazzi partiamo immediatamente con i dati di carattere fondamentale che usciranno durante la giornata di oggi allora oggi venerdì 29 marzo possiamo vedere come usciranno il sia dato month over month sia dato annualizzato. Inoltre ragazzi ieri c'è stato il GBP ovvero il PIL statunitense che è stato più alto rispetto alle aspettative di uno 0.2% ok? dato positivo ovviamente soprattutto per l'economia americana infatti abbiamo visto subito dopo uscito il dato un po' di positività per quanto riguarda i mercati tradizionali come andremo a vedere anche a brevissimo dando uno sguardo molto molto rapido. Comunque ragazzi sempre nella giornata di oggi alle 16.30 ci parlerà il presidente del Federal Reserve Jerome Powell passiamo però e torniamo nel mercato delle criptolute perché ragazzi come vi citavo nel video di ieri o ieri lato non ricordo esattamente comunque sia ci saranno oggi la scadenza delle option che corrisponde a 9,5 miliardi di dollari stiamo parlando ovviamente di un evento che tecnicamente induce i player che operano sulle opzioni e costruengono ovviamente a riposizionarsi al mercato con altri strumenti e di conseguenza potremo vedere un po' di volatilità proprio nella giornata di oggi quindi fate moltissima attenzione comunque passiamo con un'altra news molto interessante vediamo come OKEx che è attualmente il secondo più grande offshore exchange per offshore stiamo parlando ovviamente al di fuori degli Stati Uniti ha praticamente spostato internamente il proprio dipartimento di conformità della sede appunto degli Stati Uniti con la massima priorità tra tutti i dipartimenti che vuol dire? vuol dire che tutte le operazioni sono condotte con la massima priorità da questo dipartimento di conformità questo perché? perché vista la causa che stiamo vedendo con KuCoin visto Binance eccetera eccetera praticamente dei rumors e stiamo parlando dei rumors non delle comunicazioni ufficiali hanno fatto accendere l'armi appunto per OKEx non c'è ancora niente di ufficiale non ci sono ovviamente cause in atto il Department of Justice ancora almeno per adesso non ha fatto delle comunicazioni ufficiali dirette a OKEx eccetera eccetera diciamo che si vuole parare un po' le chiappette comunque al di là di questo comunque lo farei anche io fossi il CEO di OKEx ha detto e ha annunciato che oltre a delistare i USDT in Europa per essere completamente compliant con il MICA eccetera eccetera ha dichiarato anche che condurrà il più grande freeze di USDT nella storia di Tether questo ovviamente per andare a bloccare wallet malevoli eccetera eccetera probabilmente questi wallet erano riconducibili per riciclaggio di denaro probabilmente finanziamento a tenorismo eccetera eccetera non lo sappiamo con esattezza però queste sono le informazioni che abbiamo così a caldo si è espresso il CEO di BlackRock ovvero Larry Fink una delle persone più importanti dal punto di vista della finanza globale soprattutto a Wall Street e possiamo vedere come ha dichiarato che indubbiamente gli spot Bitcoin ETF sono stati un successo è stata la più grande e più veloce crescita per quanto riguarda un singolo ETF nella storia e lo abbiamo visto anche per quanto riguarda raccimolo di capitale ma soprattutto si è dichiarato veramente bullish per Bitcoin nel lungo termine prima di passare con i grafici e entrare nella seconda parte di questo video volevo rigirarvi e volevo evidenziarvi questa chart che è molto molto interessante che prende in considerazione l'absorption rate annualizzato e prende in considerazione due player al mercato ovvero le whales e gli sharks stiamo parlando di due tipologie di player molto molto simili perché ovviamente stiamo parlando di grosse entità che detengono Bitcoin però ovviamente le whale detengono molto più di Bitcoin rispetto agli sharks infatti vediamo come nell'ultimi time frame stanno continuando ad accumulare i Bitcoin entrambi appunto questi player sia gli sharks che le whales e questo ci fa capire come tendenzialmente si aspettano un continuo rialzo per quanto riguarda Bitcoin altrimenti non andrebbero ad continuare ad accumulare quest'ultimo e soprattutto vediamo come stiano assorbendo più Bitcoin di quelli che vengono minati giornalmente e ricordo che attualmente più o meno stiamo sui 900 Bitcoin post halving ovviamente si dimezzerà e avremo un'inflazione che è corrisposta di all'incirca 450 Bitcoin emessi dalla blockchain stessa e minati dai miners ogni singolo giorno perfetto ragazzi entriamo finalmente nel vivo di questo video andiamo a vedere come si stanno comportando le varie altcoin ma ovviamente dobbiamo partire innanzitutto con fare una panoramica generale infatti vediamo come su CryptoBubbles abbiamo una tendenza pressoché positiva infatti abbiamo WIF che guadagna un 21,4% Maker un 14,7% Agix che andremo a vederlo anche all'interno di questo video che a seguito di vari rumors che poi in realtà sono stati confermati probabilmente si unirà ad Ocean Protocol e a Fetch comunque sia vediamo in linea generale che abbiamo una positività all'interno dei mercati andiamo a vedere però i big ciò che ci interessa a noi infatti partiamo da Bitcoin che guadagna un 1,29% nelle ultime 24 ore che si assessa al prezzo a 70.490 dollari Ethereum allo stesso modo guadagna un 1,91% assessando il prezzo leggermente sotto ai 3.600 dollari partiamo però con la price action di Bitcoin perché infatti vediamo come tendenzialmente abbia reagito intorno a queste zone voglio portarvi 4 ore ultimamente perché sul daily è abbastanza noiosa la situazione sì abbiamo avuto questo sprint che ci ha portato questo impulso che ci ha portato da 62.300 dollari fino attualmente a un massimo di 71.700 dollari circa però tendenzialmente vediamo come anche nelle scorse ore abbia reagito proprio in queste zone praticamente abbia avuto un po' di selling pressure abbia incontrato appunto venditori e stiamo appunto ricorreggendo fino a quando non rompiamo questo livello e sul 4 ore l'avevamo rotto anche confermato nel senso con questa candela qui purtroppo però ragazzi non è stato confermato dalla candela successiva che ha evidenziato come questo sia appunto una zona di reversal la situazione è leggermente in stallo perché se non andiamo a rompere questo livello qui sopra dove c'è un sacco di liquidità come potete vedere anche sul weekly infatti in zona 72.051 fino ai 72.200 abbiamo un sacco di liquidità così a occhio e croce abbiamo più o meno un 3 miliardi di liquidation leverage che ovviamente si sono intensificati proprio da partire da questo impulso verso ribasso infatti qui sono entrati parecchi con posizione a leva e hanno aperto degli short di conseguenza ragazzi probabilmente potremmo andare a riprendere questa zona di liquidazione e poi decidere sul da farsi purtroppo stiamo entrando nel weekend di conseguenza gli flussi istituzionali per ciò che riguarda gli etf non ci possono dare una mano perché sapete bene quanto siano importanti dal lunedì al venerdì in questo momento lo stiamo vedendo con numeri proprio alla mano quanto siano importanti a livello di a livello di buying pressure però essendo venerdì i volumi sono più bassi ma soprattutto domani e domani all'altro purtroppo torniamo un po' alle origini diciamo senza flussi istituzionali comunque sia vi dicevo attenzione a liquidation leverage infatti con grafici alla mano volevo dimostrarvi il fatto come siamo passati ad un dimezzamento del funding rate che vuol dire vuol dire che siamo passati da questo livello qui ovvero le 13 del 28 marzo 2024 che eravamo a un livello di 0.0471 fino al dato di adesso nel momento che sto registrando a 0.0220 che significa significa che tendenzialmente le persone hanno switchato o meglio tutti questi player qui hanno switchato da posizionarsi long a posizionarsi short questo ovviamente su time frame breve infatti vediamo come abbiamo avuto un reversal verso il basso quindi la situazione è sempre questa chiusura al di sopra liquidazione di queste zone per poi ritentare di andare a toccare i massimi precedenti che sono appunto in zona 73.780 che ricordo in quella zona lì andiamo a prendere grafica un mese abbiamo la zona di liquidazione più grande per quanto riguarda l'ultimo lasso di tempo infatti proprio sopra questi massimi abbiamo un sacco di liquidation leverage che ricordo potremmo andare a ritestarlo nei prossimi giorni questo a fatto che riusciamo a mantenere i 68.400 dollari perché sennò torniamo con una visione ribassista ok ovviamente sul breve termine passiamo con Ethereum Ethereum fatica un pochino di più rispetto a Bitcoin questo l'avevamo già visto negli scorsi giorni perché deve superare assolutamente questa zona zona che per adesso non non ha superato assolutamente e anzi vediamo come tendenzialmente pare che stia conformando dei massimi inferiori rispetto a quelli precedenti è anche vero che quest'ultimo preciso lasso di tempo non possiamo definirlo proprio come un massimo perché non abbiamo avuto proprio una decisione sulle candele ribassiste l'importante è che non andiamo a perdere la zona dei 3.488 altrimenti se andiamo a confermare un minimo al di sotto di questa zona purtroppo potremmo vedere il prezzo di Ethereum che nel breve termine nel medio termine andrà ribassista fino ai 3.300 dollari circa volevo diliziarvi in questa puntata con la liquidation heatmap anche di Ethereum infatti vediamo come una zona molto importante dal punto di vista delle liquidazioni l'abbiamo a 3.687 perché a 3.687 perché ovviamente è sopra il massimo che vi dicevo sempre che dobbiamo andare ad effettivamente colmare andare a prendere con una chiusura decisa per andare ovviamente a invertire la tendenza per quanto riguarda Ethereum diciamo che è un paragonabile un po' ai 68.800 dollari o 68.900 dollari per Bitcoin quindi è essenziale per Ethereum se vogliamo vedere un'effettiva inversione andare a romperlo magari ritestarlo per poi andare a confermare appunto nuovi massimi magari perché no anche qui in questa situazione andare a prendere i massimi annuali passiamo dunque con la prima altcoin ovvero Matic vediamo come tendenzialmente Matic è abbastanza noioso negli ultimi tempi vediamo infatti come abbiamo sì fatto un impulso dal 24 gennaio 2024 da 0.68 fino a toccare gli 1.28 1x2 un 100% di performance però purtroppo abbiamo ritracciato ok però se andiamo a prendere in considerazione magari un Fibonacci vediamo come questo possa essere effettivamente un punto di reversal se perdiamo lo 0.9198 c'è una grossa probabilità di andare a riassorbire quasi tutto ok anche perché vediamo come il prezzo di Matic soprattutto negli ultimi tempi per quanto riguarda questi ultimi giorni vediamo come abbia regito in queste zone e non è un caso effettivamente purtroppo se rientriamo all'interno di questo range ufficialmente come vi dicevo potremmo andare benissimo a ritoccare gli 0.72 che è l'inizio dell'impulso rialzista tuttavia se magari oggi barra domani ci sorprende con rientrando al di sopra con una chiusura degli 1.05 che è anche una zona psicologica il dollaro andrebbe ad invalidare questo scenario ribassista ok quel che voglio vedere come vi dicevo è una chiusura al di sopra però questo deve avvenire entro 1 barra due giorni altrimenti le probabilità di rientrare all'interno del range e di conseguenza andare a ritoccare la parete inferiore che è molto importante lo 0.73 a livello proprio di struttura aumenta esponenzialmente parliamo di Arbitrium Arbitrium è molto interessante anche se abbiamo uno storico abbastanza esiguo infatti possiamo definire come tendenzialmente Arbitrium scorra a partire proprio dal 28 dicembre 2023 all'interno di questo canale canale che come possiamo vedere purtroppo pare essere stato rotto dall'alto verso il basso per ben due volte e purtroppo se dovesse perdere gli 1.593 potremmo benissimo andare a ritoccare gli 1.249 ok quel che mi piacerebbe vedere in uno scenario positivo e di conseguenza rialzista per Arbitrium è rientrare almeno all'interno di questo range ok in modo magari di andare a ritestare la parete inferiore per poi cercare di ritestare nuovamente i massimi effettivamente però lo scenario che si è formato negli ultimi tempi negli ultimi giorni dopo aver testato i massimi per quanto riguarda questa zona di range siamo andati verso il basso ritestata più o meno la parete inferiore ritestata nuovamente e purtroppo se dovessimo come vi dicevo perdere questa soglia qui gli 1.58 circa ovviamente sto parlando di chiusure allora tendenzialmente abbiamo più probabilità di andare verso il basso quindi attenzione ad Arbitrium a proposito di Arbitrium ragazzi dato che me l'avete chiesto in tanti volevo andare ad aggiornarvi con per quanto riguarda botto un token botto un token praticamente stiamo parlando di una blockchain che abbiamo già affrontato attraverso un video dedicato nella serie protocolli sotto i riflettori stiamo parlando di un progetto che ha tantissimi partner come per esempio gruppo bimbo federico stante la famosa casa orologera svizzera chupa chups nepsle eccetera eccetera ok non siamo qui appunto per andare a approfondirlo comunque sia nel caso vi lascio tutti i link qui sotto in descrizione del video dedicato in modo che potete andare a vederlo comunque tornando a noi vediamo come come attualmente abbia strinto una partnership in realtà non la chiamerei più una partnership ma è appunto si appoggia alla piattaforma di Arbitrium per lanciare il proprio token ovvero il VTN token come verrà lanciato verrà lanciato attraverso una presale sapete bene che io in realtà non sono un fan estremo delle presale dato per la natura di esse ok l'ho già affrontato più e più volte all'interno dei protocolli sotto riflettori dato che ne abbiamo affrontate già diverse però vediamo come tendenzialmente la vendita partirà per quelli iscritti alla whitelist il 3 aprile ok comunque ragazzi lascio tutti i link qui sotto in descrizione non è assolutamente un invito ad andare acquistare non sia mai una cosa del genere anche perché sapete e ripeto di nuovo valmente che non sono un fan delle presale assolutamente passiamo con l'intelligenza artificiale ovvero Agix una delle più importanti vediamo come quest'ultimo prima di andare a vedere la price action in questi giorni a partire proprio anche da ieri l'altro ha fatto molto parlare di sé per quanto riguarda la criptosfera infatti vediamo come c'era il rumor di una mega fusione tra i tre protocolli principali ovvero Ocean Protocol, Agix e Fetch AI stiamo parlando ovviamente di news che hanno portato un sacco di positività per quanto riguarda in questo caso Agix andiamo ovviamente a prenderlo in esame in questo video ma in realtà anche gli altri due token non sono esenti appunto dalla volatilità vediamo infatti come a partire però dal 24 marzo 2024 abbiamo fatto una ottima performance ottima performance del 38% indotta anche sicuramente negli ultimi giorni da FOMO di persone che hanno investito in vista proprio di questo possibile aggiornamento eccetera eccetera vediamo come però non abbiamo chiuso assolutamente al di sopra di questa zona né con la chiusura né con questa spike qui ciò vuol dire che qui c'è ancora un sacco di liquidità da andare a prendere però tendenzialmente nel futuro di brevissimo termine non abbiamo avuto la forza ovviamente dipende come chiude questa candela qui perché se dovesse chiudere addirittura al di sotto della chiusura della candela precedente ovvero 1.29 in giù allora potrebbe essere effettivamente un double top ovvero un pattern d'analisi tecnica dove tendenzialmente potremmo andare ancora verso il ribasso è vero che c'è tanto rumor è vero che c'è tanta speculazione in questi ultimi tempi per quanto riguarda queste tipologie di asset dell'intelligenza artificiale personalmente mi avete chiesto cosa ne penso di questa mega fusione a mio modo di vedere ad oggi che non abbiamo informazioni specifiche sui vantaggi che potrebbe portare ovviamente a una fusione di questi tre token per me è soltanto una mossa di marketing il che non è che per forza negativo però voglio vedere qualcosa di concreto detto ciò attenzione alla chiusura di oggi perché è molto importante per andare a definire se questo sia un double top o invece soltanto un ritracciamento sul daily andiamo a vedere link link ha una struttura molto interessante infatti vediamo come abbia subito un impulso fase di lateralità fase di congestione in modo che abbiamo accumulato tutti gli ordini per poi partire verso l'alto ok vediamo come un pattern molto simile si sta creando infatti abbiamo visto fase di range liquidazione sopra liquidazione sotto per poi andare a ripartire effettivamente e pare che questo pattern lo abbiamo visto anche in questo momento infatti abbiamo visto fase di range liquidazione sopra liquidazione sotto come potete vedere abbiamo liquidato appunto sia quelli che si sono posizionati short a questi livelli sia quelli che si sono posizionati long a questi livelli e tendenzialmente finalmente per adesso sembra essere pronto per andare a prendere effettivamente una direzionalità staremo a vedere quale sarà la direzionalità se dovesse confermarsi con questa tipologia di pattern potrebbe benissimo essere verso il rialzo ciò vuol dire che potrebbe fare una situazione del genere ritest fino magari queste zone per poi andare verso l'alto come in pratica fatto qui esattamente qui ritest della zona inferiore per poi andare verso l'alto vedete come la schematica è molto molto simile cioè praticamente è identica comunque sia vorrò aggiornarla nella prossima settimana perché probabilmente avremo fatto già passare il tempo che è necessario per andare a prendere la direzionalità per quanto riguarda link perfetto ragazzi siamo arrivati alla fine di questo video se non l'avessi ancora fatto chiedo di supportare il canale lasciando semplicemente un like e iscrivetevi al canale stesso per gli iscritti invece noi ci vediamo nel prossimo video ciao iscriviti al canale